Si era rivolto alla trasmissione televisiva da Iene per denunciare il caso di Carlo Gilardi, l'anziano professore di Ailuno, del quale era badante, rinchiuso in casa di riposo contro la sua volontà. Questa però era la sua versione dei fatti per il Tribunale di Lecco, Brahim El Mazzuri, residente a Brivio, invece responsabile del reato di circonvenzione di incapace nei confronti del professore benefattore. Per questo è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere. La pena è stata sospesa, ma nella sentenza il giudice Salvatore Catalano ha imposto all'ex badante di risarcire Gilardi dei 18.000 euro ricevuti indebitamente, oltre che delle spese processuali e di una multa di 600 euro. Insieme a Brahim, che aveva scelto il rito abbreviato, erano imputati per lo stesso reato altri nordafricani che l'anziano professore ha aiutato nel corso degli anni, stracciata una posizione marginale di altri cinque indagati che tuttora vivono negli stabili di proprietà del professore, sono stati rinviati a giudizio e andranno a processo il prossimo 7 marzo. Gilardi, novantenne di Eruno, generoso benefattore, si è trovato suo malgrado protagonista di un caso mediatico nazionale. L'ex badante aveva accusato l'amministratore di sostegno Elena Barra di aver rinchiuso il professore in casa di riposo contro la sua volontà. Intanto questo pronunciamento ristabilisce la verità dei fatti, commenta Stefano Pellizzari che difende la legale. Poi leggeremo le motivazioni della sentenza. Aggiungo che l'imputato è stato condannato solo sulla base dell'unico pagamento ricevuto in forma tracciabile. La procura, che aveva chiesto una condanna maggiore, ha intenzione di presentare appello alla luce della sentenza e delle posizioni ancora in attese di giudizio, oltre che di motivazioni di carattere sanitario. L'anziano professore resta per ora in casa di riposo.